Ciao a tutti amici di seblogappsblogspot.com andiamo oggi a vedere un interessante tutorial che riguarda la creazione di un'applicazione o meglio un template per un'applicazione multiscreen infatti anche se questa opzione all'apparenza è semplice possiamo vedere come in realtà non lo sia e ci siano alcuni aspetti da tenere in considerazione per prima cosa come al solito ci richiamo alla pagina pinventor.mit.edu e clicchiamo su create per accedere al nostro app inventor la nostra schermata di benvenuto ed andiamo a creare un nuovo progetto che chiameremo appunto multiscreen easy perché poi questo sarà un tutorial che andremo ad elaborare mano a mano per far vedere tutte le modalità con cui si possono creare le applicazioni multifinestra e tutte le loro possibilità ovviamente essendo un'applicazione multifinestra multiscreen dobbiamo aggiungere più di uno screen perché di default abbiamo solo un'applicazione formata da uno screen chiamato screen1 questo screen non è possibile modificare il suo nome noi invece vogliamo creare altri due screen il primo sarà uno screen di about quindi clicchiamo su add screen e scriviamo about ed il secondo sarà uno screen chiamato help quindi andiamo a fare di nuovo add screen finché vediamo che cambia il titolo dell'applicazione con questo menu possiamo gestire i nostri screen ed andare a cambiare la programmazione di ognuno di essi quindi andiamo a prendere il titolo di questo intanto lo chiamiamo multiscreen easy come primo step vogliamo realizzare una semplice interfaccia dove ci saranno dei pulsanti che ci faranno navigare tra i vari screen e la schermata con l'interfaccia della nostra applicazione vera e propria quindi in layout partiamo mettendo un horizontal arrangement e un vertical arrangement l'horizontal conterrà i pulsanti per navigare tra le nostre schermate e il vertical arrangement conterrà tutti i nostri componenti della nostra applicazione quindi andiamo a mettere due button nell'horizontal arrangement ed andiamo ad impostarlo in fill parent così come anche i due pulsanti il parent e anche lui in fill parent poi il testo sarà allora abbiamo detto che questo sarà quello che andrà alla schermata help e questo andrà alla schermata about per esempio rinominiamo quindi button about e questo sarà invece button help qui invece giusto per metterci qualcosa andiamo a caricare un'immagine un'immagine qualsiasi nel mio caso questo sfondo che potete scaricare scaricando i sorgenti dell'applicazione che viene caricato in App Inventor e visualizzato a breve andiamo a mettere il fill parent per la larghezza e per l'altezza del nostro vertical arrangement e poi l'immagine possiamo sistemarla ma in questo momento non ci interessa farlo perché non è lo scopo di questo tutorial consiglio anche di andare in screen one e togliere l'opzione scrollable in modo da poter visualizzare correttamente tutto il vertical arrangement e poterlo sistemare all'interno della stessa schermata ora la parte di screen one da design editor è fatta andiamo nella pagina di about dove in pratica replichiamo lo stesso layout con lo stesso due pulsanti che però questa volta faranno delle cose leggermente diverse nel senso che il primo pulsante andrà alla pagina main che diciamo è la prima pagina principale della nostra applicazione e l'altro pulsante invece andrà alla pagina dell'help quindi scriviamo button main e button help anche qui sistemiamo in fill parent e i pulsanti a tutta larghezza quindi fill parent e fill parent così sono un po' più carini anche qua come esempio di quello che ci voglio mettere dentro andiamo per esempio in un sito a caso quello del mio blog che vi invito sempre a visitare ed andiamo a vedere per esempio il site and privacy policy ed andiamo a fare un copy incolla questo è giusto un semplicissimo esempio giusto per mettere del testo nella nostra applicazione quindi facciamo copia torniamo qua alla nostra applicazione andiamo ad aggiungere una label e il testo di questa label cancello questo testo faccio ctrl v così viene incollato tutto il testo che avevamo messo prima se non viene tutto quanto dobbiamo andare sulla nostra label e anche qua la with metterlo in fill parent in modo che vada a capo in automatico perché non vi mostra tutto perché anche qui abbiamo la proprietà scrollable e quindi vedete che togliendola riusciamo a visualizzare tutto il testo ora faccio una cosa simile per la schermata dell'help ci vediamo quando l'ho sistemata tanto comunque il concetto l'avete capito ok ho realizzato anche la schermata di help come vedete i due tasti dovremmo portarmi all'applicazione main o alla pagina del about qua sempre ho messo ovviamente dei componenti di test un componente di test molto semplice ma potrete metterci ovviamente quello che vorrete bene nella parte 2 vedremo come programmare l'applicazione quindi cosa dobbiamo inserire nel blocks editor per ora voglio farvi vedere come funzionerà l'applicazione alla fine qua l'ho lanciata sul mio telefono quindi vedete che ho questa schermata multi screen easy premendo about vado alla pagina dell'about premendo help vado alla pagina dell'help main torno all'help e torno alla pagina principale oppure posso andare direttamente all'help all'about quindi come vedete posso navigare in tutte le tre schermate della mia applicazione con relativa semplicità continuate a seguirmi per la parte 2 dove appunto vedremo di ultimare l'applicazione grazie e ciao grazie a tutti grazie a tutti